Allora, oggi più che mai indosso la maglia dell'Inter, orgoglioso più che mai, e mi voglio accodare alla signora A. Cerbi che vi ha fatto il cin cin sui social, la signora A. Cerbi, io mi voglio accodare, e voglio dire un grazie e un cin cin ai tifosi napoletani, perché mi hanno insultato in un modo assurdo in tutti i social quasi, specialmente su quella cosa chiamata X là. Grazie, grazie. Non pensavo, lo sapete. Siete la specie peggiore, sto parlando di calcio, di tifoseria, siete i peggiori. Siete i peggiori. Io spero che il Napoli non vinca mai più nulla, perché io vi ho tifato e vi ho sostenuto. Spero che il Napoli vinca fra duecento milioni di anni. Voi non meritate nulla, perché voi, quando Sarri, vi ricordate il fatto contro Mancini molto grave, avete difeso Sarri. Voi avete difeso Sarri. Voi avete difeso Sarri. Io spero che non vinciate mai più nulla, perché siete la peggior specie del tifo. Sto parlando di calcio. Gli amici napoletani è un'altra cosa, perché sono gente fantastica. Ma voi che tifate il calcio siete la peggior specie in assoluto. Mi dispiace dirlo. I peggiori. E io uno per uno vi sto dicendo di cancellarmi o bloccarmi. O vi sto bloccando io tutti quanti. Perché non esiste. Non esiste. Scostumati, scostumati, ignoranti che non siete altro. Spero che non vinciate più per 200 milioni di anni. Niente. Ignorant. Cin cin. Yaw ma yaw. E ora vi prendo per il chap. Adesso inizio anche con te a prenderti per il chap. Adesso vedrai te.